Con l'avvento della tecnologia che si avanza sempre di più, la piazza reale viene a mancare sempre di più. Il nostro intento era proprio questo, creare un confronto generazionale tra i ragazzi degli anni 70 che hanno vissuto dei movimenti studenteschi, movimenti popolari, culturali e i ragazzi di oggi che comunque non vivono difficilmente queste cose sono più portati per il confronto del network. Ogni stagione ha le sue caratteristiche, probabilmente la mia generazione è una generazione che era più votata all'impegno politico, all'idealismo, all'idealità. Oggi penso che i ragazzi non è che siano assenti da questa prospettiva, ma sono più concreti. Sono i cicli della vita, è un fatto naturale, è normale. Ieri magari c'erano altre passioni, altri interessi, oggi molto diversamente ce ne stanno delle altre. E' però quello che conta, quello che sta sempre al centro, come dire, anche dell'animo, dell'animo creativo dei giovani è inventarsi, come dire, sempre qualche cosa di nuovo che possa fronteggiare i disagi e le avversità della vita. Ieri magari nel 77 ci sta la nascita del movimento punk per quanto riguarda l'espressione musicale e tante altre cose. Per quanto riguarda invece l'espressione politica, la nascita di autonomia operaia e tante altre sfaccettature dell'impegno politico, oggi paradossalmente, in un momento molto critico, sia a livello economico sia a livello dei valori, paradossalmente vediamo che i giovani non scendono in piazza come ieri. Ecco questo è qui il grosso punto interrogativo. Credo che il social network, se da una parte isola, se però usato bene, può diventare anche una grande apertura. Allora, dopo questa ubriacatura di social network e di isolamento, la nuova generazione probabilmente, mi auguro, comincia ad avvertire l'esigenza di costruire una storia, di ricostruire una storia, di voler conoscere che cosa è successo negli anni passati. Quindi questo è un uso intelligente e un uso positivo delle tecnologie e dei nuovi strumenti di informazione.